Bella a tutti ragazzi, sono Tony, oggi vi porto un nuovo vlog perché internet non funziona ancora come avete visto dall'ultimo video che ho fatto con Max che è un splendido che abbiamo fatto ridere oggi vi porto un nuovo tipo di vlog, sono le 7 di sera, del 10, domani niente scuola perché Luclida è come per la gente chi lo sa, io e Max e altri amici nostri andiamo a Luclida e a Piggia quindi per chi è di Piggia noi siamo sempre ai giardinetti, cioè dietro a Salvemmi per chi lo sa poi non so, oggi cuciniti con me, questi qua sono dei pezzi di salame, questa è una roba qua sta la pancetta che sta cuocendo con, ne manco un po' di cipolla perché mi piace al cipolla con Dio, a me piace farebbe sognare, questa è la pasta di piselli che ora devo riscaldare quello è tutto il preparativo che ho fatto, l'arrange, allora come dice Max, mannaggia l'arrange, mannaggia l'arrange ecco sta la pianina, prima ho fatto pure una cazzata, vabbè io cucino sempre con la destra devo bloccare con la sinistra, pieno d'olio ovviamente, ora dovremmo buttare tutto questo, zitta pure un cane che mi rompi con lui spegnendo il fuoco, se no si brucia la pancetta, allora prendiamo, bello, e buttiamo dentro uno ovviamente mi cade fuori, poi se mai vi faccio fare un tour da mia casa, che questa qua è la seconda casa perché i primi video che ho fatto con il DGTA, sapete col telefono, io lo dico perché vedo, l'ho registrato col telefono no, lo stesso registro col telefono, il blog ovviamente, però quando registro sulla play, uso la play ah, questo qua vuoi fare che non mi va più, giustamente, dietro una porta, questo vuoi fare che non va più, bello per chi non sa io ho wind, ora ho cambiato a tempo così mi arriva la fibra, quindi live, su rainbow, ne manco il ping qui c'è, ora accendiamo di nuovo, abbasso un attimo il telefono per te lo accendere di nuovo, belle le mie io faccio l'anautica, non faccio alberghiere, sono no, ero bravissimo a cucinare, allora questa qua è la padella perché si riscalda da sola, con il fuoco dell'altra padella in cui sta cucinando pancette e tutto quanto però io volevo assaggiare il salame è buono, non è male perché si sente, se tu metto altri, questa altra fetta dentro là, aspettavo ci si scaldava un poco perché se lo sbaglio è diventata fredda, è buono perché da qua c'è, la pulsa se, la sottietta è diventata come si è sciolta e tutto il grasso del salame, si è andato a poterci, quindi è rimasto tutto sul grasso, bello, è bello che non ci sono i miei genitori e quindi do pure io sto casino, è giusto che devo fare così però, cazzo, lo fai pure pulizia, ok, ora mettiamo sul gas la piadina, questa, ora voi vi dite ma le sofficini, cioè qui così là, stanno qua, però siccome queste cose sono suggerate, non mi fido tantissimo perché non ho tanta fame più che altro anche, ho un po' paura anche, quindi non lo so, no, non c'è, oh, no, ho sbagliato adesso, si è acceso, ovviamente il dito sta dentro al fuoco, ma se, ma porco dio, questo è il salame, mangeremo ora, forse è meglio che mettiamo un buco, ora vi faccio vedere ciò che è successo, mettendo insieme pancetta e condom bleu, quasi 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 ci metto un incluso di arancia, dai, vediamo cosa succede, minchia, l'ho messo veramente, non lo metterò perché è la mia cena, buono, è buono, è buono, dai, di qualità, non è, chissà da anche, però è buono, cioè non è, caro il cracco, proprio spostati, però dai, è buono per me, poi vi faccio vedere tutto, ok, ecco là tutto quanto, ci mettiamo anche un po' di sale, giustamente, perché non è abbastanza salato, ok, vogliamociare il dorso, bene, ok, per chi di mamma sta vedendo questo video, l'olio, l'olio che sta qua nei paletini, lo pulivo io, è perché lì, ma la pancetta torcante è diventata, ma dai, in una parte è quello che volevo, ora la piadina la mettiamo qua perché, devo stopper un attimo il video perché se no devo cambiare sta padella con questa, perché questa qua ha poco a poco, come potete vedere quella l'ha tanto, se no la pancetta si vaffan cura, grazie, stiamo in cucina, stiamo già cucinando perché non si è dimenticato di fare la cosa, e praticamente oggi mangerò, allora, prima vi spiego cosa mangerò, e poi vi, è sera comunque, prima vi dico cosa mangerò, poi vi faccio vedere tutto quanto, allora, praticamente, come antipasto, salame, due pezzi di salame, due pezzi di salame, ripieni con questi cubetti di condom bleu, chi lo sa, vabbè, due pezzi a ciascuno di condom bleu, pezzettini di condom bleu, poi, un po' di pastepiseggi, giusto pochissimo perché sto pura dieta, dieta, per dire, perché sto mangiando un po' di roba, no? Perché non mangio, cioè, stamattina, io lo dico, alcuni miei amici già lo sanno, stamattina ho mangiato un cazzo, ma veramente niente, ehm, vabbè, ehm, poi, di secondo mangerò, i sofficini, per chi non lo sa, queste cose, vegane, vegane, quindi faranno schifo, ehm, questi pezzi di condom bleu, messi dentro una piadina, insieme alla paticetta, che, voglio trovare un po' di cipolla, perché a me piace la cipolla, eh, non la trovo, quindi, abbassiamo un po' il fuoco, ora vi faccio vedere, l'otto di sera, tengo sta stufa, che forse, non attacco, perché fa un po' freddo, e sto, scalzo, con pantalone, maglietta corta, bocce il mio cane, ciao, saluta, saluta me, ciao, dopo un culo, mi porto anche a fare il tour della casa, dai, allora, questa è il mio soggiorno, postazioni gaming, come a volte chiamare, playstation modificata, beh, per dire modificata, ho messo solo, due adesivi, il tv, che non so quanti pollici sia, il wifi, ho fatto vedere che non funziona, queste due le mie cane, andiamo, nella mia stanzetta, per vedere, andiamo, la camera adesso, non ve la faccio vedere, perché privacy, di miei genitori, allora, qua c'è una donna, questa, sono tutte le cose, di mio fratello, tutte, 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 tranne, questa, che è mia, no, non fumo, tranne, questo, che io, sono amante di monster, affanculo, che vede, per l'etichetta, eh, amante, ma ovviamente, di monster, one piece, una luce, io, i cartoni, di questo genere, a me non piacciono, potete scriverli, nei commenti, mi piacciono, no, non c'è, anzi, io sono, un grande amante di moto, infatti, a febbraio, secondo, il mio compleanno, non per nanti, di fatti, vabbè, questo è un mio armadio, non ve lo faccio vedere, il mio tablet, ovviamente, che io, adesso, poi, ho col tablet, ci mancherebbe, e posso vedere, che sono da qua, eh, Siri, ma vaffanculo, Siri, ma vaffanculo tablet, poi, ho, questa veranda, con le scarpe, aspetta, non si vede niente, vabbè, un secondo cesso, con lavandino, tutto, scalo, vabbè, eh, ora vi faccio vedere, perché non c'è la luce, aspettate un attimo, accenditi, a tutto questo, caffetteria, mio cane, che capisce, cestino, sedia, tutto questo, vabbè, piante ed erba, il basilico, però, non fate finta, che sia marijuana, poi, aveva la stanzetta, che è, vabbè, potremmo stoppare, paesaggio, che porta a Barivecchia, cioè, da in fondo, è Barivecchia, la stagporta pure, ho paurato, mica, del telefono, poi, c'ho una stanzetta, l'avete vista prima, il mio letto, questo qua, è il mio diretto, un po' disordinato, ma ascialla, questo è di mio fratello, io ho un fratello, purtroppo, ma, eh, li voglio bene, ho una fotocamera, che non sarò mai, un'altra fotocamera, che non sarò mai, perché, le batterie, di queste due telecamere, porco Dio, non ce li ho, penne, da scuola, che mi rubano, ovviamente, cappelli, sac, ritroviamo in cucina, perché sta scaldando, la piadina, porco Dio, ritroviamo, oh no, spegniamo questo, spegniamo anche questo, perché, dove, perché, padella, metto un attimo qua, anche se scelerebbe la plastica, metto un attimo qua, giriamo un attimo, oh cazzo, mi sa che si è, ecco, ho detto che io, non lo sapevo cucinare, pure dai, la dire tutta, non ho fatto l'esplorio, in nessuna casa, ok, ok ragazzi, ci ho messo, anche una foglia di, insalata, ketchup, ho messo tutto, sta tutto qua, allora, quelli là, io non li faccio più, perché no, no, non li voglio, sinceramente, non voglio, in base, perché mi capisce, praticamente ha detto, non li voglio, ci metto un fazzoletto, un altro fazzoletto, e li metto, in frigo, perché, veramente, non li voglio, comunque, dentro, a piedino, ci metto anche, una fetta di, questo, ah, una fetta contata, quindi, ci danno in frigo, c'è un po' di immondizia, la, vieni, ah, ho un po' di, bella lavata pure, ovviamente, la padella, non la lavo, perché, la lavo, mia madre, perché, ci deve stare, ancora, del riso, perché io, non lo voglio tutto, cioè, giusto pochissimo, una cucchiaia, piccola, cioè, cucchiaia normale, ora, con il toglie, non si vede niente, ora, perché, sto togliendo, sotto i letti, sto, in fondo, cioè, io, sono cattolico, a Bettegno, cioè, mi avessi spaccato il telefono, ma non me lo posso farlo vedere, cioè, troverò il modo, per farlo vedere, in questo video, veramente, ah, si, dal tablet, è vero, vi faccio vedere, le condizioni del mio telefono, nello schermo, perché, praticamente, eravamo all'ultima, ora, di lezione, eh, siccome, non si è un indicato, cioè, un amico mio, si era dimenticato, di darmelo, per un giorno, se l'hai tenuto, quindi, ho usato il telefono, di mia madre, o il tablet, insomma, un pozzo di pancetta, con un boom, io, ho una pancetta, cruda, perché, non è il mare, buonissimo, anzi, mo, metto una busta, là, nel frattempo, lascio, questo qua, mi ha impiatto, questo, e tutto questo, sparì, aspetta, oh, fatto, non c'è voluto, un cazzo, scusate, se lo dico, oh, la, come ho detto, è rimasto un po' di riso, qua, stanno le paghe, tutto il mondo, un amico, la stanno le arance, c'è questa da birra, aspettate, che prendo anche, questa, perché, voglio anche, acqua, no, giriamo da qua, così non si vede cosa è, beh, che facciamo, mangiamo, ci vediamo dopo, ragazzi, c'è una cosa sul telefono, allora, ho tolto tutto, perché si è, spezzata letteralmente in due, la piadina, e, è un po' dura, come potete vedere, e, praticamente, sto prendendo così, e la metto in bocca, per fare più di rucce, è, cosa dicendo, ora, non riesco, perché tengo il telefono in mano, bu, porco, non riesco a bocca, riprendere, faccio pure, schifo, youtube, pochi, sto mangiando, questi qua, per se, sto mangiando, come sto dicendo, sto, questo qua è duro, cioè, sentite, sentite, cioè, questo, è buono, voi, vengono da mangiare, sto coso, cioè, praticamente, l'insalata, che si è appiccicata, tutto, con la sottiletta, pancetta, e io sto pronto a tagliare, voglio mangiare con voi, perché, non ho molta fame, non ho veramente, ho sto mangiando, cioè, mi sento pieno, via, perché cazzo, olio, basta, anche se oggi non ho mangiato niente, però, sto mangiando, qualcosa, ok, non sto ballando molto, perché, non mi voglio parlare, perché, oggi, hanno aggiornato in classe, ho andato, che mi prendo un po' d'acqua, e, andando un bastoncino, cioè, cibo per cane, al mio cane, intanto, e vi racconto, cioè, hanno aggiornato, oggi, è stata troppo bella, primo, sta per te, che, mangia? no, quello è mio, cosa vuoi, scende? come stiamo facendo? prima ora, cioè, verso, le 8 e mezza, perché io, entro tardi, però, e, quindi, non ho fatto un bel niente, ma che malta, auto, ma è bravo, come un po' mi sesso, e, poi, seconda ora, in effetti, mi fermo un attimo, perché, mi devo riprendere, secondo ora, abbiamo fatto, abbiamo fatto una batteria, che non vi ricordo, terza ora, abbiamo fatto chimica, il compito di chimica, che ha processato così scema, che ci ha lasciato, con il tablet in mano, quindi, io, avrò sicuramente, un bel voto,